Ho provato il nuovo rampino e lancio del tuono di Fortnite E questa è la mia azione Lo lancio! Alla faccia Vieni qua Ah! Sbram bam! Bello! Minchia ma devi... Minchia devi essere preciso per prenderlo eh Ti provo il rampino? Direi di sì Vai! Oddio che bello! Che bello sembra tipo il guanto di Spider-Man Nooo Per vedere il video completo Clicca il link nel primo commento Ti aspetto